Il corridoio verde tra Via Lepindaro e Via Lofeudo a Pescara diventa realtà grazie alla collaborazione tra il Comune e l'Università d'Annunzio che investirà sui terreni ceduti dall'ente 1.350.000 euro. Una zona degradata tra il Tribunale e l'Università che attendeva una riqualificazione da anni e che a partire da oggi, in 274 giorni, avrà una nuova vita. Queste le parole del Sindaco Carlo Masci. 720.000 euro saranno destinati a nuove aree esterne pertinenti al campus. Saranno realizzati camminatoi, vialetti, rampe per l'accesso delle persone svantaggiate, spazi verdi. Una nuova recinzione esterna in particolare, l'attraversamento centrale che collegherà di più e meglio gli attuali padiglioni con l'ala della Segreteria Unificata. Presente all'inaugurazione del cantiere anche il professor Antonio Basti che insieme al professor Enzo Calabrese hanno realizzato il progetto coinvolgendo alcuni studenti della D'Annunzio. È l'apertura di un cantiere che ha una valenza anche simbolica importantissima perché ricollega l'Università con il territorio e incomincia a fornire il suo contributo a un miglioramento del campus di Viale Pindaro che è una delle priorità assolute della nostra amministrazione. Quindi sarà un progetto bello, io l'ho visto anche se l'ho ereditato, insomma non ho merito, ma sarà un progetto veramente bello esteticamente e farà sì che incominciamo a realizzare il fatto di avere dei bei campus, delle belle locazioni universitarie all'interno di belle città. 329 mila euro saranno invece utilizzati per la realizzazione del corridoio verde, utili a favorire lo snellimento della mobilità leggera, ma anche ad allineare la direttrice parallela alla stessa Viale Pindaro tra via Plauto e la rotonda del Tribunale. Si tratta di un asse di 400 metri che presenterà un'immagine totalmente migliorata rispetto all'attuale degrado, anche per la presenza di un'alberatura su entrambi i lati della strada. Sarà utilizzabile in prospettiva da mezzi pubblici, bici e da monopattina a trazione elettrica, visto anche il progetto di una diramazione della pista ciclabile esistente che si presenta allo sviluppo dello sharing mobility già in atto a Pescara.